Si è tenuta oggi l'assemblea dei soci della Saga, società di gestione dell'aeroporto di Pescara, con il presidente uscente Enrico Polini che oggi lascia ufficialmente l'incarico. Sì, è l'ultimo giorno di scuola, come si dice. Abbiamo fatto l'assemblea dei soci e la regione ha approvato il bilancio, ovviamente che era un ottimo bilancio, e poi ha nominato presidente della Saga, io non conosco sinceramente, Vittorio Catone, quindi non so che dire, e un altro paio di consiglieri, o tre mi pare, sì tre, perché la Zanchiello è stata confermata, che conoscevo, di cui sinceramente non conoscendo nessuno dei tre non ho francamente nessuna opinione. Spero soltanto che le cose vadano bene per l'Abruzzo e per l'aeroporto, che l'aeroporto è vitale in Abruzzo, produce economia, ricchezza, benessere, quindi metterlo a rischio in una gestione incerta sarebbe veramente grave. Io so che in tre mandati nelle società pubbliche si decade, si scade, quindi era automatico che io scadesse, non era questione di spoil system o di altre amenità del genere. L'unico problema è che in molte società, in molti comuni, si è deciso, essendoci stato il lockdown di oltre un anno, di prorugare, di fatto, di recuperare questo anno. Quindi forse il buon senso avrebbe, come dire, previsto, comunque poteva essere una cosa seria, dare un altro anno all'aeroporto per riprendere i livelli a cui noi l'abbiamo portato, cioè al record dei passeggeri 703 mila, record storico, ai successi enormi che ha avuto in questi anni, riportarlo a quel livello e fra un anno fare queste nomine. Ma sono decisioni che prende il socio di maggioranza, 99%, che si chiama Regione Abruzzo. Le prende, se ne assume tutte le responsabilità. Qui, ripeto, secondo me, e l'ho detto, c'era bisogno e c'è bisogno di manager, non di nomine politiche. Siccome non conosco le persone in questione, mi auguro che siano i migliori manager possibili, non conosco neanche il loro curriculum, quindi non avrei nessuna, come dire, ulteriore considerazione da fare. Mi auguro, ripeto, per l'aeroporto che le cose vadano in un certo modo. Io ce l'ho messa tutta. La squadra che è stata con me ha avuto un numero di successi veramente storico per questo aeroporto. Più di questo non potevamo fare. Ma io torno ai miei lavori. Tenete conto che io qui ho lavorato tre anni, in pratica gratis, a 24.000 euro lordi l'anno, cioè poco più di 12.000 euro netti l'anno, 1.000 euro al mese, 1.100, non so. Quindi non era un lavoro, era davvero un mettersi al servizio dell'Abruzzo e servire la propria ragione, a cui io devo molto nella mia storia e quindi l'ho fatto con grande piacere. Torno al mio lavoro, alla mia famiglia, alle mie occupazioni, al turismo, all'economia, al management. Vero, io, tra virgolette, manager da 10 anni nel settore privato lo sono per davvero. Quindi sono 11 anni che lavoro nel settore privato e ho fatto esperienze di tutti i generi, di tutti i tipi, non ho nessuna difficoltà a tornarci.